Una 25enne di origini nigeriane è stata denunciata per infanticidio ed occultamento di cadavere dopo aver partorito e nascosto un feto di 25 settimane nel centro migranti lontrano di Auletta. La ragazza avrebbe partorito in bagno e si sarebbe sentita male subito dopo. A lanciare l'allarme gli altri ospiti del centro che hanno allertato i soccorsi, giunti prontamente sul posto per verificare le condizioni della 25enne, la quale in un primo momento ha smentito il parto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di sala Consilina che hanno trovato il feto nascosto in un secchio posto all'esterno della struttura. Per tale motivo la donna è stata denunciata per infanticidio ed occultamento di cadavere. Sul feto invece sarà effettuato l'esame autoptico.